All'angolo agricolo di Rosario Tulumello è iniziato il Black Friday con sconti del 50% su tutta la merce in esposizione. Sono partiti gli sconti del Black Friday, sconti del 50% su tutto il materiale del negozio, prezzi mai visti, latte per olio 5 litri 1,80€, motoseghi a partire da 79,90€, tagliasiepi, piante da interno con il meno 50%, lubrificanti con il meno del 40% e tanto altro. Vi aspetto numerosi dal 22 novembre al 6 dicembre, orario continuato dalle 7 alle 19. Promozione Black Friday, meno il 50% su tutti i vasi in negozio, vasi di qualità. Venite a scoprire il mio mondo sulla statale SS113 a Campo Felice di Roccella. Vi ricordo pure che noi siamo centro assistenza autorizzato per tutti i mezzi agricoli, centro Squarna e centro alpino. Promozione Black Friday, meno 40 e 30% su tutte le scarpe esposte al negozio. All'angolo agricolo di Rosario Tulumello è partito il Black Friday. Vi aspetto numerosi, orario continuato, fino al 6 dicembre. Grazie a tutti.